Le serate estive in centro a Breno saranno animate anche quest'anno dalla musica e dall'arte grazie alla rassegna artistica e culturale Cantieri Culturali. Dopo l'edizione della scorsa estate che si è svolta nonostante la pandemia, gli artisti torneranno in piazza e torneranno ad emozionare. Lo faranno nei venerdì sera di giugno e luglio creando in piazza Sant'Antonio e nella chiesa momenti di intrattenimento capaci di unire brenesi e turisti attorno alla musica, al canto, alla poesia, alle mostre, alle installazioni e nel ricordo dell'amato sindaco Sandro Farisola. La rassegna Cantieri Culturali che anche quest'anno viene proposta qui in questo teatro urbano che è piazza Sant'Antonio ha l'obiettivo di far incontrare le persone in un contesto di bellezza dove ci sono proposte artistiche così che le persone si incontrano, si scambiano le idee, le visioni e ritengo che è così che una comunità evolve. Questa rassegna è in memoria di una grande persona molto speciale che è stato il nostro sindaco Sandro Farisoglio perché quattro anni fa è stato lui che ha voluto questa rassegna. Con la direzione artistica di Patrizia Tigossi la rassegna inizia venerdì 25 giugno con l'inaugurazione alle 20 della mostra Tracce di Tiziano Ronchi, giovane artista del Borgo degli Artisti di Vienno e alle 21 con il concerto degli ottoni bandistici brenesi dal titolo E quindi uscimo a rivedere le stelle, uno schema che si ripeterà nei venerdì successivi fino al 30 luglio in un teatro urbano, la piazza ricca di attività commerciali che hanno sostenuto l'iniziativa. Tutto questo si è potuto realizzare grazie ovviamente al sostegno del comune, della Proloco e della comunità montana ma anche il sostegno dei professionisti brenesi e dei commercianti. La rassegna ospiterà artisti soprattutto del territorio con la collaborazione anche dell'associazione musicalmente che metteranno al servizio della comunità la loro esperienza per facilitare il processo di integrazione tra il patrimonio culturale e la comunità stessa. Gli artisti sono prevalentemente del territorio o della città di Brescia in alcuni casi e cantieri culturali si pone proprio anche l'obiettivo di valorizzare tutto il nostro patrimonio culturale dando a loro la possibilità appunto di esporsi, mettendo in mostra il loro studio, la loro ricerca e la loro preparazione. Grazie. 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 Grazie.